Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo un ciac d'oro e un premio Ubu manca qualcosa in quel 2017? manca il premio Ennio Morricone che secondo me è un premio importantissimo è un 2018 che invece inizia in questo febbraio con Sanremo il tuo primo? sì io sono un esordiente è la prima volta che partecipo al festival però è un teatro familiare perché quando abbiamo vinto le Targhe Tenco diciamo siamo stati qui c'è una differenza sostanziale perché Sanremo diciamo da piccoli uno lo vedeva anche in bianco e nero quindi c'è un'emozione particolare immagino però insomma sarei stato anche un po' aiutato vista l'esperienza no 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 l'esperienza in questi casi non serve assolutamente ogni Sanremo fa storia a sé poi Enzo non ha assolutamente bisogno del mio aiuto io gli sono complice in questa magnifica canzone che parla della possibilità di cominciare da capo per tutti allora appena iniziano le note le vostre voci iniziano a cantare siamo subito negli occhi vediamo Scampia è la mia terra perché io provengo da Marianella da Scampia chiaramente è voluta perché ho scelto la mia provenienza ma poteva essere un qualsiasi punto della terra di una città non frontale di una periferia dell'anima è un testo dedicato ai signor Nessuna alla straordinarietà della vita di un uomo comune ed è un inno alla vita comunque e ovunque invece per quel che riguarda venerdì come sarà la serata dei duetti? allora venerdì avremo come ospiti gli Avion Travel la mia famiglia musicale in un modo bellissimo la chiama così Enzo perché poi in primavera uscirà il disco nuovo nostro di Inediti dopo dieci anni e poi avremo D'Abituré della famiglia dei Turekunda cantante africano che ha collaborato spesso con Enzo che è un magnifico controttenore che canterà improvvisando con un suo testo e ne verrà fuori un'ulteriore coralità quindi a questo dialogo a due si apre a un dialogo a più voci una sorta di organo e la neve cioè le voci, le varie voci e la vita che poi ci circonda bene io volevo sapere soprattutto da Enzo questa prima esperienza te lo immaginavi così? questo frullatore musicale continuare a rilasciare interviste la concentrazione prima di andare su un palco? ma io sono felice perché esce un best off e quindi è il mio primo best off insomma quindi ci sono cose del passato da James Brown, Tina Tann, Africa Bambata Rich Evans, Randy Crawford, Kaledius, Andoro tutti poi diciamo che in tre giorni io nella mia vita non ho mai fatto tanta promozione nel senso che dal 2000 ad ora penso che ho fatto in due giorni quello che non ho fatto nella mia vita sono strafelice di questo perché sono venuto apposta a Sanremo per promuovere la mia musica in forma canzone e quindi che si sviluppa attraverso i suoni alla parola e non c'è occasione migliore per promuovere un messaggio però quello che vogliono sapere anche da casa dopo questa collaborazione importante sul palco proseguirà anche nei live farai dei featuring nel loro o viceversa? ma noi già lo facciamo io lo faccio da sempre con gli Avion diciamo è una cosa a cui siamo abituati normalmente l'esperienza più bella che abbiamo condiviso di recente è stato il film di Edoardo De Angelis per il quale appunto Enzo ha vinto il Davide di Donatello dove io lavoro anche come attore e quella è stata indirettamente un'occasione bellissima in cui abbiamo ancora una volta collaborato prima di salutarvi Enzo ma è vero che eri passato al buddismo perché ti aveva convinto Tina Turner ho letto male o bene? no 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 non si chiama convinto per l'amor di Dio perché non si fanno proserie si chiama Shogobuku io nasco cattolico Tina Turner mi fece Shogobuku mi avvicinò al buddismo di Nichiren Dashonen per quattro anni ho praticato una mia Horeng Kyo poi ho fatto un'altra esperienza più che altro di meditazione del cuore con un maestro che era Zricimoi poi sono ritornato cristiano in cammino poi ho adottato il rosario come preghiere ad azione oggi anche sacramento quindi sono un cattolico cristiano comune come tutti gli altri che vive il coraggio di ogni giorno ho qui il tuo album pelle differente insomma due cd un bellissimo nuovo lavoro che vi invitiamo ovviamente a comprare ma io vedo questo corallo che avete sulla giacca è un simbolo che significa? ma no per me è un gesto d'affetto di Murad che è un mio carissimo amico che me l'ha regalato il corallo è una materia che va difesa che va tutelata ma che è espressione della nostra cultura campana io non sono uno che che diciamo segue molto la moda però ho avuto dono di questa giacca da un mio carissimo amico che è un cultore di certe cose e mi ha donato questo simbolo che è un simbolo credo di appartenenza e io ne sono fiero insomma poi magari avrà pure per lui un significato come si dice sarà un brand suo eccetera però io non è che sono tanto questa è la prima giacca diciamo ufficiale che io mi sono messo nella mia vita mori che ci fanno guai la prima giacca allora l'ultimissima domanda l'ultimissima domanda un po' marzuliana se volete allora tutte le domande marzuliane sono belle perché adoro ma adoro nel senso tante domande tante interviste ma hai fatto così tanto per te Enzo cos'è che non vi hanno chiesto e che volete in assoluto dire ma ci hanno chiesto tutto perché io io credo di interpretare anche il pensiero e la volontà di Peppe noi abbiamo un buon rapporto con la stampa da sempre con l'informazione perché tutto ciò che è arrivato di nostro della nostra musica è grazie chiaramente ai giornalisti grazie alla stampa è grazie all'informazione quindi siamo abbastanza contenti di questo grazie mille a questi due volevi dire l'unica cosa che mi sento di dire noi siamo qui per una sfida quella di farci comprendere un compito che aspetta a noi da una grande platea popolare come quella di Sanremo con queste bellissime parole salutiamo questi due meravigliosi artisti che ci continuano a emozionare sul palco dell'Ariston grazie a Denzo avvitabile per te servillo grazie a voi Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo in collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli e B per Banca